Svolta nelle indagini sugli episodi di violenza sessuale ai danni delle due cuginette di 10 e 12 anni che si sarebbero consumate nel Parco Verde di Caivano in provincia di Napoli, in manette la scorsa notte per mano dei carabinieri della città partenopea sono finite 9 persone, 7 minori, 2 maggiorenni, tutti sono accusati dei presunti stupri. Per gli investigatori le violenze accertate sarebbero più di una e in più occasioni uno scenario agghiacciante, violenze di gruppo ripetute. Le misure sono state messe dal GIP per il Tribunale per i minorenni di Napoli e dal GIP per il Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura dei minori e di quella di Napoli Nord. Le indagini dei carabinieri sono partite nel luglio scorso dalla denuncia del fratello di una delle cuginette e hanno portato subito alla individuazione di uno dei maggiorenni del branco. Poi sono stati individuati tutti gli altri. Ci sarebbero anche prove video arrivate sullo smartphone di un familiare e di una delle vittime che hanno contribuito a far scattare la denuncia. Addirittura una delle cuginette sarebbe stata costretta a subire rapporti sessuali da uno dei ragazzi mentre con il cellulare la riprendeva durante una chiamata in diretta. Le due ragazzine su un mandato del Pubblico Ministero del Tribunale per i minori sono state anche allontanate dalla famiglia. Gli abusi si sarebbero consumati nel centro sportivo che ora, dopo la visita della Premier Giorgia Melone a Caivano, un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e poi un decreto legge denominato appunto Caivano sarà ripristinato con risorse per 10 milioni di euro recuperando la sua funzione di centro polivalente anche sportivo.